La prima riunione della Giunta regionale dopo la scomparsa di Iole Santelli sarà ricordata come quella dell'intitolazione della cittadella alla Presidente, ma al di là di quelli che saranno gli scenari politici di cui a breve, in preparazione delle prossime elezioni, il lavoro della Giunta deve continuare fino alla prossima tornata elettorale, sarà presieduta dal Presidente facente funzione Nino Spirlì. Fra i provvedimenti approvati, 2 milioni di euro sono stati destinati ai lavoratori del comparto del Servizio Sanitario della Regione Calabria per il riconoscimento di emolumenti e accessori relativi all'esplettamento delle attività straordinarie in occasione dell'emergenza Covid-19. Ma l'esecutivo ha voluto dare un sostegno anche alle famiglie di studenti universitari fuori sede. Grazie ad una variazione di bilancio, infatti, sarà possibile liquidare a circa 5 mila famiglie di studenti universitari fuori sede un contributo, una tantum, di 500 euro finalizzato a dare sostegno alle famiglie calabresi costrette a fronteggiare le difficoltà economiche causate dal lockdown e le limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19.